Ciao, bentornato al programma TV di oggi con notizie come. Ora che i genitori hanno ufficialmente annunciato la loro separazione si sta cercando di capire quale sorte toccherà ai tre figli della ex coppia formata da Ilari Blasi e Francesco Totti L'annuncio della separazione Blasi-Totti, ha suscitato molta curiosità sotto diversi punti di vista, il motivo della fine delle nozze, la divisione dei beni ed eventuali nuove fiamme Ora l'attenzione si sposta sui figli della ex coppia, su come avrebbero preso la notizia e, soprattutto, ci si chiede a chi dei due verranno affidati Christian, Chanel e Isabel Cosa faranno ora i tre figli di Ilari Blasi? Per ora una vacanza da sogno in Tanzania con la mamma Ultimamente molti utenti dei social sono corsi a vedere quali contenuti postassero i primi due, ragazzi ormai grandi, che sono soliti usare e aggiornare quotidianamente i loro profili Dio mi ha detto che ci avrebbe pensato il karma dice attraverso una canzone messa su TikTok la figlia mediana, un gesto che non è passato inosservato e che in molti hanno ricollegato alla attuale situazione familiare, soprattutto perché faceva da sottofondo ad un video in cui si vede la sua partenza per la Tanzania Il viaggio in questione, forse fatto appositamente per allontanarsi dal caos mediatico, generatosi negli ultimi giorni, è stato organizzato da Ilari per portare tutti e tre i suoi figli in uno splendido resort in Africa, con mare da favola, panorami mozzafiato e bellissimi outfit, sfoggiati dalla conduttrice Mediaset Con quale dei due genitori continueranno a vivere i tre ragazzi? In molti pensano già ad allontanamenti celati dietro ai post social di Chanel o Christian I due figli più grandi, lei del 2007 e lui del 2005, hanno entrambi le loro vite e i loro progetti, nonostante la giovane età Lui fa parte della squadra Under-17 della Roma, mentre lei è stata recentemente al centro di rumors che la vedevano protagonista di un reality in onda prossimamente, il Collegio Queste voci sono state, però, al momento smentite.Grazie per aver guardato l'intero video La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie Ciao e ci vediamo nei prossimi video Ciao e ci vediamo nei prossimi video Ciao e ci vediamo nel video Ciao e ci vediamo nel video